Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Come state? Spero bene. Nel video di oggi, come avete letto dall'intestazione del titolo, andremo a parlare dei diamanti e di CoinMarketCap. Più che altro andremo a vedere che cosa ci si può fare con questi diamanti su CoinMarketCap. Ovviamente il video non verterà unicamente su questo argomento, perché ovviamente è molto sempre molto veloce, ma dato che ultimamente su quest'altro social ho iniziato a postare qualche storia riguardante appunto l'andamento di alcune criptovalute e molti di voi non sanno di alcune funzionalità di CoinMarketCap, intendo più o meno fare una specie di overview molto veloce su tutte quelle che sono le funzioni e le possibilità che possiamo trovare effettivamente su CoinMarketCap. Diciamo ovviamente che non voglio guardare nello specifico tutte quante le funzioni e le particolarità che si possono adoperare, perché ovviamente alcune bisogna utilizzarle e si possono utilizzare soltanto se ci abboniamo alla piattaforma, perché ovviamente alcune sono a pagamento, ma la maggior parte delle funzionalità sono ovviamente gratuite e secondo il mio modesto parere sono anche più che sufficienti per poter capire effettivamente l'andamento di una cripto e soprattutto in che modo il mercato si sta muovendo. Come sempre però, prima di addentrarci nel video, vi chiedo di potervi iscrivervi al canale, di mettere un bel like a questo video per aiutarmi a raggiungere le persone possibili e di commentare con qualsiasi dubbio e domanda. E ovviamente anche se volete di accendere la campanellina, in modo da poter rimanere sintonizzati e aggiornati su tutti quanti i video che usciranno da qui in poi. Ovviamente per iniziare a parlare di CoinMarketCap e di tutte quante quelle funzionalità che ci sono e che si possono utilizzare su questa piattaforma, dobbiamo spostarci come sempre sul computer. E infatti siamo qui sulla schermata principale di CoinMarketCap, dove ho già ricercato ad esempio Bitcoin, e possiamo andare a vedere un attimino quelle che sono le panoramiche, il mercato, gli storici, i rating, gli analisi, il price estimation, insomma tante cose che effettivamente magari molte volte molte persone non sanno che esistono o comunque sia sottovalutano questa importanza di questi strumenti. Andiamo ad analizzarle ovviamente uno per uno e vedremo un attimino quali sono i migliori, secondo me ovviamente per poter stimare, per poter capire in che direzione stiamo andando con quella criptovaluta. Bene, ovviamente la parte iniziale, la parte base è quella della panoramica, dove possiamo vedere appunto un andamento giornaliero in questo caso, perché riguarda un giorno, quindi le 24 ore, di Bitcoin. Possiamo da qui, da questa tabella, poter aumentare questo andamento e capire un attimino già meglio quelli che sono appunto i parametri di Bitcoin e in che posizioni ci stiamo andando a piazzare. Ma ancora meglio, se ovviamente vogliamo approfondire questo discorso, dobbiamo andare a cliccare qui su Trading View. Perché tutto questo? Ovviamente è molto più semplice poter capire meglio quelli che sono l'andamento reale, giornaliero o comunque sia mensile, trimestrale, quello che sia, di Bitcoin. Perché qui sotto avremo i volumi di scambio, quindi sia quando sono rossi ovviamente perché vengono scambiate per poter essere vendute, quando sono in verde perché invece vengono comprate. E in più qui sotto avremo queste famose candele, chiamate appunto candele, che ci aiutano a capire meglio quelli che è appunto l'andamento della moneta. In che modo ci aiutano a capirlo meglio? Questo qui ad esempio è l'andamento giornaliero, che sì, ci aiuta a poterlo capire giornalmente, ma non è preciso e accurato quanto magari scendere di tempo. Infatti se scendiamo a un'ora vediamo che le candele aumentano, se scendiamo a 30 minuti aumentano anche le candele sempre per lo stesso intervallo di tempo, ma soprattutto se scendiamo, se facciamo magari un trading molto veloce come lo scalping, ci servirà ovviamente il trading a un minuto. Vedete che il trading a un minuto è in continua variazione, in continuo cambiamento. Quello che noi prima vedevamo come verde, verde, rosso, verde, adesso vediamo come rosso, rosso, verde, rosso, perché ovviamente nell'intervallo di tempo non è più a un giorno o a 30 minuti o a un'ora, ma è a un minuto. Quindi diciamo è minuto per minuto quello che sta succedendo effettivamente nel mercato di Bitcoin. Questo fa uno strumento molto utile, però ecco ripeto, è molto utile se si utilizzano dei tipi di trading molto veloci, molto rapidi, come appunto anche lo scalping o magari il trading intraday. Questi qua potrebbero essere utili per quello. Se invece vogliamo cercare un attimino di capire meglio quello che è l'andamento di Bitcoin esterno a quello che è semplicemente il grafico, possiamo andare ad affidarci sugli strumenti appunto che CoinMarketCap ci offre, come ad esempio anche l'analisi. L'altro giorno ho postato appunto questa fotografia su Instagram e alcuni di voi mi hanno chiesto ma che sito è? Che cosa stai utilizzando? Questo qua è sempre CoinMarketCap che ci fornisce un'analisi più o meno indicativa e abbastanza accurata di quello che è in questo momento diciamo appunto il mercato e soprattutto l'andamento di Bitcoin. Ad esempio adesso è vero che siamo in una piccola regressione, anzi potremmo anche chiamarla in una fase di accumulo di Bitcoin, ma molti di noi potrebbero pensare effettivamente che magari invece il Bitcoin sta tornando a scendere o comunque sia si sta stabilizzando. In realtà siamo sempre in una fase, secondo i dati riportati, secondo ovviamente le analisi che sono state fatte, sempre in una fase di bullish perché il network grow up ovviamente è aumentato del 0,35% e quindi è nettamente dato anche il valore di Bitcoin in una fase di bullish, mentre invece in the money che sarebbe veramente il cambio della moneta nel momento dei wallet è diminuito, quindi vuol dire che meno persone stanno spostando monete nei wallet è diminuito con questa di 0,6%, mentre invece la large transaction sarebbe praticamente quindi il numero di scambio di larghe transazioni che ci sono sulla moneta, cioè ovvero quanta moneta viene comprata ovviamente è in crescita, anche questo qua è dello 0,61%, sono tutti quanti segnali ovviamente positivi perché vuol dire che il mercato è in buona salute in un buono stato e che soprattutto Bitcoin sta continuando a salire, quindi siamo in realtà in una fase di accumulo, non siamo in una fase di perdita, questa è una cosa molto importante che magari capisco perfettamente che ci sono delle persone che sanno perfettamente in che fase ci stiamo trovando, però ci sono anche tutte quante quelle persone che sono neofiti e che magari di questa cosa qua non lo sapevano. Ovviamente altri sistemi che potremmo utilizzare sono ad esempio quelli del mercato, che cosa ci dà come riferimento questo qua del mercato? Innanzitutto ci dice dove viene comprato e scambiato maggiormente Bitcoin nella giornata e vediamo che nella giornata di oggi ad esempio Bitcoin viene scambiato maggiormente su Binance, Hubiglobal, FTX, Coinbase Exchange, insomma questi qua sono i primi, poi man mano a scendere sono tutti quanti gli altri. Il volume di scambio che viene utilizzato, ovviamente possiamo cambiarlo come vedete è una specie di tabella, il volume di scambio maggiore appunto sempre per il giornale di oggi ce l'abbiamo sempre su Binance, poi su Hubiglobal, FTX e quant'altro, dove addirittura vengono scambiati più di 3 milioni di dollari di Bitcoin e USDT, insomma sono parecchi. Il volume comunque sia abbastanza pesante, 8,50 ed è sempre più alto, l'affidabilità è alta ovviamente, la qualità invece è il 919. Sono tutti quanti i dati comunque sia che ci possono aiutare a capire meglio quello che è appunto l'overview generale dell'andamento del mercato. Poi ci sono ovviamente tutta un'altra parte delle notizie, dei social, del rating, del price estimate, insomma sono tanti strumenti che CoinMarketCap effettivamente ci mette a disposizione e che noi possiamo eventualmente utilizzare per poter migliorare quello che è la nostra conoscenza della moneta e soprattutto anche per poter migliorare quello che è il nostro momento di ingresso all'interno della criptovaluta. Ma dopo aver visto ovviamente tutte quante queste funzionalità che spero possano effettivamente essere utili a qualcuno e soprattutto penso possano essere utili effettivamente a tutti quanti in realtà da poter utilizzare anche perché CoinMarketCap come ho già detto in altri video è veramente completo da questo punto di vista andiamo a parlare dell'argomento appunto del titolo del video che sarebbero i diamanti. Mi avete chiesto anche di questo, l'altra volta scorsa l'avevo accennato che ci sono questi diamanti che si possono collezionare, che si possono appunto prendere sulla piattaforma e alcuni di voi mi hanno chiesto ma alla fine cosa ci fai con questi diamanti, cioè cosa ci puoi fare? Bene, adesso andiamo a vederlo subito e faccio più o meno capire alcune delle potenzialità e delle possibilità che ci sono ovviamente su questa piattaforma utilizzando i diamanti. Cliccando infatti sull'icona dei diamanti andremo a vedere che io in questo momento posseggo 40 diamanti di CoinMarketCap ovviamente non è che sono 40 diamanti veri ma sono 40 diamanti, sono 40 punti, diventiamo in questo modo ho riscattato, perché ovviamente ogni giorno che tu accedi alla piattaforma avrai per i primi 7 giorni una ricompensa io ho acceduto per 3 giorni consecutivi, il quarto giorno che oggi non l'ho ancora fatto andrò a cliccare su questa icona e verranno aggiunti al mio wallet di diamanti appunto altri 20 diamanti ci sono diversi modi per poter accumulare diamanti, assolutamente sì innanzitutto partecipare giornalmente a un airdrop infatti se noi partecipiamo agli airdrop, se tante volte lo siete perso come si partecipa a un airdrop su CoinMarketCap vi lascerò il video in descrizione o qua sopra in modo tale che potrete andarvelo a rivedere e capire bene come funziona quindi anche quello, anche partecipare a un airdrop ci dà ovviamente oltre alla possibilità di poter vincere delle criptovalute tramite questa airdrop anche la possibilità di poter accumulare questi diamanti possiamo prendere altri 10 diamanti invece facendo dei price estimation cioè andiamo a fare una previsione di prezzo per quello che riguarda comunque sia una criptovaluta in questo caso serve farne 3, quindi fatte 3 previsioni di prezzo la piattaforma ci ricompenserà con 10 diamanti le previsioni di prezzo non devono essere per forza giuste, possono essere anche sbagliate anche in quel caso verremo premiati altri modi per poter collezionare ovviamente questi diamanti per fare appunto la previsione comunque sia di altre criptovalute in questo caso qua 50 diamanti la previsione ovviamente deve essere giusta mentre invece questa qua bisogna cercare di far entrare le persone con il proprio referral tra le altre cose per poter ottenere il referral da poter condividere nel link in descrizione che ovviamente in questo caso non c'è serve dover raggiungere i 200 diamanti da lì in poi puoi utilizzare i diamanti per poter acquisire il tuo referral link e poi condividere tutte quante le persone qui ovviamente sul sito c'è anche una diamond leaderboard ovvero ci sono tutte quante quelle persone, ad esempio dal primo ovviamente fino all'ultimo dei quanti diamanti ognuno di noi possiede che siamo registrati ovviamente per motivi di privacy non sono indicati i nomi con cui noi siamo registrati su questa piattaforma e il primo in assoluto anche il secondo vedo che sono a pari merito hanno 15.820 diamanti ma cosa ci facciamo effettivamente con questi diamanti? beh andiamo a vederlo tra le rewards quindi tra i premi con questi diamanti è possibile poter partecipare o comunque sia acquistare NFT e partecipare a progetti inerenti sia al mondo della blockchain sia al mondo degli NFT ovviamente più importante sarà il progetto o l'NFT più alto sarà il valore di dover scambiare con i nostri diamanti minore sarà il progetto e quindi anche minore la potenzialità di quell'NFT e minore sarà il prezzo di quell'NFT stesso sono variabili? assolutamente sì variano dei giorno in giorno cioè un giorno questa NFT può costare oggi 1500 domani potrebbe costarne 3000 ovviamente dipende tutto quanto anche dall'andamento sia del progetto stesso ma anche dell'interesse da parte di tutte quante le persone in questo caso questa NFT è sold out mentre invece NFT o così a progetti sui quali si può investire in maniera anticipata ce lo dice qui coming in one day ovviamente quindi che sta arrivando in un giorno dovrebbe essere disponibile e se noi abbiamo già disponibili 150 diamanti cosa che io in questo momento non ho potremmo effettivamente partecipare a questo progetto che sarebbe Lucky Lion Coin Market Cup e Happy Halloween 2021 è ovviamente un evento, un progetto pensato e creato per Halloween quindi per il giorno di Halloween quindi sarà sicuramente una sorpresa abbastanza interessante chi lo sa magari potrebbe esserci magari un regalo di NFT o un airdrop di qualcosa ovviamente bisogna partecipare per poter scoprire che cos'è bene ragazzi fondamentalmente questo qua era il video su Coin Market Cup e sulla potenzialità dei diamanti e con questo quanto il resto che concerne le varie funzionalità che possiamo trovare su Coin Market Cup io penso che questo qua forse sarà l'ultimo video della serie di Coin Market Cup magari se ci sono degli aggiornamenti ci sono delle funzionalità effettive da dovervi portare nuove o come sia magari molto utili che inizierò a scoprire perché sto iniziando a utilizzare molto di più questo sito ve le porterò sicuramente in un prossimo video per il video di oggi sicuramente questo è tutto e non penso di portarne un altro lunedì prossimo lunedì prossimo parleremo di un altro argomento sempre molto interessante che posso dirvi che vi stuzzica un pochettino io vi ringrazio come sempre di avermi seguito fino alla fine lasciate un bel like se ovviamente il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, commentate con qualsiasi dubbio e domanda e accendete la campanella e noi come sempre ci vediamo nella prossima puntata ciao ciao a buon weekend e buon Halloween a buon weekend